Negli anni la comunità del Politecnico di Torino è cresciuta a stretto contatto con la società e ha esteso le sue radici in tutto il mondo. Siamo stati in prima linea anche quando tutti hanno dovuto cambiare la propria vita. Grazie all'impegno di tutti i docenti e all'implementazione tecnica di piattaforme e server proprietari, più di 30.000 studenti seguono online l'intera offerta formativa. Anche per l'anno accademico 2020-2021 sarà possibile seguire i corsi da tutta Italia e da tutto il mondo in modalità online. Gli studenti potranno interagire con i docenti, partecipare a laboratori, sostenere esami e sessioni di laurea e usufruire di tutti i servizi offerti dall'Ateneo. Torneremo ad incontrarci e confrontarci di persona con nuove abitudini e con la passione di sempre. Tutti gli strumenti e le conoscenze messe a disposizione dal Politecnico resteranno per arricchire le nostre vite. Scopri il Politecnico di Torino. Ripartiamo insieme.